Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Artecaver, sono qui in questi commentari Oggi sono qui come avevo promesso con il video sugli emblemi del livello 200 E mi ero sbagliato completamente, non sono gli emblemi delle munizioni alternative Quindi alto forno e cavo inerte, quelle sono a livello 300 Ma abbiamo gli emblemi di doppi punti, instant macchina mortale e salvi Che sono comunque abbastanza carini e sono gli emblemi vecchi Più o meno penso siano quelli di Black Ops 1 come grafica Perché sono un pochino diversi da quelli qua su Black Ops 3 Perciò penso siano Black Ops 1 o Black Ops 2 magari Se qualcuno lo so meglio, ditemelo pure nei commenti Sono comunque abbastanza carini, ho scelto quello del instant perché secondo me è quello più bello E quindi per adesso io comunque cerco sempre di tenermi gli emblemi del 100 successivo Diciamo ogni 100 ci sono 9 emblemi, cerco di tenermi quello più nuovo possibile Avevo tenuto la chiave dell'evocazione per il livello 100 Per adesso otterrò l'instant e come avevo detto Probabilmente quando ci saranno le munizioni alternative come emblemi Quindi altre 100, terrò anche alto forno Perché probabilmente tra le munizioni alternative è l'emblema migliore Forse quello più figo diciamo anche perché è quello che rappresenta secondo me Il bonus più utile Ho scelto anche di sottofondo le mie classifiche perché Era da parecchio che non le facevo vedere Le facevo vedere nei video dei prestigi all'inizio inizio Proprio le prime settimane di Black Ops 3 quando ho fatto i 10 prestigi E nonostante abbia perso un botto di posizioni Dato che non ho giocato appunto per tutto il tempo che c'è stato tra i 10 prestigi E i 1000 livelli da adesso Comunque qualche partita ogni tanto giusto per cazzeggiare Adesso comunque ho giocato parecchio appunto The Giant E mi sono alzato parecchio nelle classifiche Soprattutto di edge shot, colpi sparati, colpi a segno e quelle cose lì Volevo dirvi anche che ieri avevo detto che appunto sia Deja che Vex hanno raggiunto il maestro prestigio Loro avendo più tempo di me stanno facendo Shadows a Raffica Quindi Vex è già quasi al 100 Perciò magari per i prossimi emblemi di 300-400 e così via Magari chiederò a Vex di registrarli per me e poi mandarmeli Perché così potrò far uscire video più velocemente Poi ovviamente quando uscirò a sbloccarli io ci sarà un video a riguardo Infatti domani avrete un video su Destiny E dopo domani avrete il video invece sul mio livello 200 Così farò vedere come al solito tutti gli ispezioni in cui livello e tutte le solite cose Perciò ragazzi ho anche visto da molti di voi nei commenti che siete magari anche a un livello molto alto Sono sicuro che su PlayStation come ho già detto The Rise and Draca aiuta molto E mi avete anche detto che c'è il problema tipo di gente che si copia gli account Quindi persone legit che sono a livello molto alto sono davvero poche Però comunque penso che A qualcuno se non sbaglio ha detto che c'era qualcuno al 1000 Se non sbaglio due persone E sì comunque ormai in stigioni di questo passo Con i punti doppi qualcuno sarà sicuramente arrivato al 1000 Ma anche molta gente è sul 700-800 Qua su One Figuriamoci su PlayStation Comunque ragazzi nei prossimi giorni come ho già detto esce The Rise and Draca Perciò aspettatevi streaming e diversi video Dito come al solito anche lasciate un mi piace, un commentino, iscrivetevi al canale E noi come al solito ci vediamo in un prossimo video Un abbraccio Alla